Mi chiamo Gianna Bianca, sono una fotografa di moda, siamo nella seconda giornata della Fashion Week di Milano e stiamo andando alla nostra prima sfilata di oggi, di entrare in incontro. La Fashion Week fa parte del mio lavoro, abbastanza stancante, non è solo divertimento come pensano tantissime. Quelle sfilate è un punto fortissimo di ispirazione per tantissime. Mi piace vestirmi diversamente, in diverse modi, mi piace divertirmi, mi piace abbinare colori forti, colori diversi. Io amo l'Italia, è un paese così straordinario, nonostante che piccola, ma è così ricca culturalmente. Il mio posto preferito di Milano è sicuramente Duomo, dove vado quasi ogni domenica a brigare. Grazie a tutti.